iPad Air M1 C'è tanto da dire Ma penso di averlo risolto Per quanto non abbia senso Gente, salve Ci sarebbero tantissime cose da dire E non ne ho letto realmente il tempo Perché sono le 7 di mattina Sono le 6.50 e alle 8 devo essere a scuola iPad Air M1 È un prodotto molto controverso È stato presentato martedì e non ho ancora fatto il video 10 giorni Molti hanno fatto il video dopo l'evento, lo volevo fare anch'io Ma poi ho detto No, non ha oggettivamente Senso, volevo aspettare le recensioni Perché il Mac Studio Per quanto sia Strano, ha il suo senso Perché il prodotto professionale Il Mac Mini professionale, ok Questo iPad Air È una linea totalmente diversa Ha dei colori bellissimi, lo volevo dire Scusate, però non ci tenevo Ha avuto un video Proconse veramente bello Per me è uno dei migliori video fatti Dai, Apple Cioè, personalmente tanto quando l'ho visto lì all'evento Molto più bello di quello del Mac Studio Che anche quello mi ha ingasato Però non siamo qui a parlare di questo Se no, veramente, ci perderemo E quindi ora ragioniamo un po' Per chi ha senso Dove ha senso Perché c'è un M1 in un iPad Air Che non sfrutta il software La iPad Air 16 A YouTube l'anno scorso Ho un po' perso le speranze C'è gente che sta dietro a 10 anni E non l'è ancora persa Quindi per rispetto Parlerò anche io di iPad Air 16 L'unica cosa che mi ha fatto un attimo Nell'ultimi giorni Perché di un M1 Sono state due Allora Ovviamente il fattore compatibilità Quindi con gli aggiornamenti nel tempo Ho detto Ho pensato anche a dei Air 2 Che dura ancora ad oggi Questo prodotto ha il processore di un Mac Che di solito i Mac durano anche di più A livello di aggiornamenti Voglio vedere questo iPad Come quello del Pro dell'anno scorso Che secondo me ha ancora più senso Perché magari tenivano più aggiornato il Pro Quindi ha perfettamente senso Secondo me Quando arriverà il loro momento Il 2027 Lì Anche il 2028 Per carità Anzi Molto probabilmente Il 2028 Il 2029 Soprattutto per questo Air A quel punto lì Sì che si differenzia da una 15 Che magari lo smettono più Verso il 2027 Fine 2020 Non lo so Il primo fattore di aggiornamenti Il secondo È già una funzione Che potrebbe arrivare Quindi con la Magic Keyboard Su iPadOS 16 O iPadOS 17 Non so cosa sarà Però Questa funzione Che quando attacchi Tu l'iPad Alla Magic Keyboard Ti possono Puoi mettere Le app In piccole finestre Non l'ho capita molto bene Però c'è questo link Molto affidabile Come quello Delle cartelle Nel dock Che anche Mi ispira molto Per Questo proprio per iPadOS 16 Fonte sicure Al 97% Quindi queste app In finestra Dovrebbero essere esclusive Per gli iPad M1 Allora Lì sì che ti dico Ok Ascent Non lo metti sugli ultimi Però E non lo metti Su questo Air E a quel punto Capisco perché Ci hai messo L'M1 Per avere Questa funzionalità E dire Ok È un esclusivo Per l'M1 Perché l'ultima volta C'è stata un'esclusiva Per solo Per l'ultimo iPad È stata la WWDC In cui La WWDC 2015 2016 Tanto e tanto tempo fa In cui Potenziavano tanto Gli ultimi iPad Con la 9 Ecco Qui Potenzia solo Dai Su funzioni Suclusive Gli ultimi iPad Con l'M1 Quindi Su questo M1 Ci siamo un po' capiti E quindi magari Non lo so Non c'è la funzione Esclusive Tipo questa Metti un Final Cut Un Xcode Un Un Logic L'ISIC Mi piace Hanno sistemato I movie Sì Ma c'è la differenza Comunque Ma i movie Sistemato Per quanto può essere Ben sistemato Regà Non potevi paragonarmi Ai movie A Final Cut Ai movie Io li ho provato Sul Mac È una roba Inusabile Design Molto bello Mi piace Mi piacciono molti colori Il Galaxy Amenti sugli altri prodotti Su qui è arrivato Mi è piaciuto tanto Su questo paradotto Che è un po' più grosso Non mi ispira tanto Il Galaxy Amenti sugli altri colori Molto molto belli Mi sono piaciuti Praticamente tutti Soprattutto il Celeste Un bel celestino Mi ha proprio convinto Soprattutto dopo averlo visto Nelle recensioni Perché all'inizio Vi ammetto Che mi aveva fatto impazzire Ma ora dopo averlo visto Bene su YouTube Sì Mi piace veramente tanto Un bel colore Che userei tutti i giorni Penso non mi stuferebbe Poi così tanto Soprattutto con una cover Quindi magari Lo vedo solo al bordo Molto più bello Del Celeste Di iPad Air 4 Anche quello Mi piaceva veramente tanto A me piace poi Il blu come colore In generale Quindi Sono soddisfattissimo Anche viola Molto bello Ma ormai sono i colori Di iPad Mini Penso che Apple Quest'anno Per questa zona Voglio puntare Particolarmente Su questo viola Non so perché Infatti secondo me iPhone 14 Torna in viola Con questo presentimento Che ora vogliono Restare sul viola Hanno aggiunto Central Stage Fra le poche altre novità Bene Sono molto contento Central Stage Lo mette su tutti i prodotti L'hanno aggiunto Giustamente Ma ce l'aspettavano tutti Quindi anche la fotocamera Posteriore Pasava 7 megapixel A 12 megapixel Quindi anche per le videochiamate E tanto E quindi anche per ora DAD Sarebbe Sarebbe Comodo Perché ora andiamo a analizzarlo In confronto Alli precedenti Al Pro da 11 Che cambia veramente poco E allo scorso modello Quindi vado a prendere il MacBook Ah L'altro Voglio aggiungere Che hanno aggiunto Anche il 5G Perché comunque Io non darei per scontato Soprattutto se lo abbinate Magari a un MacBook Con Universal Control Magari siete fuori E il 5G Cioè Nel posto dell'Hospot Fai ancora più veloce A quello che ho capito Quindi mi sembra comodo E comunque Anche se ti fai hotspot Comunque tanta roba Secondo me Il cellulare Prima o poi Magari Non ti dico per forza Con il 5G Per il primo Anche con il 4G Arriverà Sul MacBook Non la vedo molto da Apple Farlo con il 4G Vanno gli attenti Di 5G Perché sono pazzi Se vado sull'ordine Dell'iPad Air Nuovo Posso dire Quindi di grigio Siderale E non mezzanotte Hanno aggiunto Il galassia Non l'ho capito bene Potevo mettere il mezzanotte Rosa Rosa Mi fa ancora schifo Viola Ci sta Lo stesso viola Più o meno Dell'iPad mini Blu E galassia Lo metto sul blu Ma poi Ovviamente ci sono C'è da 64GB Che per un prodotto del genere Mi sembra un po' pochini Dipende anche da quanto spazio Avete sul cloud Però Se vuoi che si prenda una 256 Sarebbe un solo problema Parte da 869 Che cosa trovo io A 128GB A 900€ Anzi 889 Quindi esattamente 20€ in più Certo 128 Ma Vanno comunque bene iPad Pro da 11 Ebbene sì E molti dicono No Allora prendi l'iPad Pro da 11 Beh Dipende Perché se sei un professionista L'iPad E Pro apposta C'ha magari 120Hz C'ha quelle cose in più Ha senso Ma L'unica cosa Che va un po' più A favore di lui Ovviamente È Il TACID Sul tasto Che è molto più comodo Il FSD Lo dico ancora ad oggi Però anche se fossi lì Se non fosse questo Celestino Ah io Foresse solo per il Celestino Qui sarei le Air Però ci sono i 120Hz Di là Se vogliamo I 256Hz Sul Pro Andiamo a 1.9 Quindi abbiamo Circa 130€ Di differenza E anche lì Bah A quel punto Già può avere senso Questo iPad Air Ovviamente Sui 64GB Anche lì Sono comunque Tanti ragazzi Perché sì Anche lì A 700€ 64GB Sono oggetti Però come un produttore A casa Anche lì C'è 70€ Un iPad Air 2 Non mi ricordo Quanto costava Però comunque Ti dura tanto L'iPad Per carità Un iPad Dura molto più Dell'iPhone Però Ho i miei dubbi Gli ho trovato Il senso Sì Perché Però Gli hanno messo M1 Per questa cosa Della compatibilità Va a giustificare Il prezzo Non del tutto Perché Secondo me Fra qualche anno M1 arriverà Anche su iPad Normale Come su iPad mini Quindi Ve lo dico iPad mini Magari Fine anno 2023 Su iPad normale Che magari Sarà già arrivato L'M2 Su Su questo E sul pro Magari Anche sul normale Allora Lì Differenzia totalmente Anche l'iPhone Dal Mac Però Ti alzano Tanti prezzi Oppure Fai scendere Anche Layer Perché Si sarà già Normalizzato Il processore Del Mac Sull'iPad In Magari L'Apple Non te la vende Più Come una Killer feature E questo Che è un po' C'è da capire Oppure Vogliono Magari Tenersi Il chip Del Mac Per questi Più potenti Lo metti Anche sul mini E sul normale Che lo chiami iPad SE L'iPad Air E il mini Diventano iPad In due modelli Differenti E il pro Rimane pro Sul SE Quindi Resti Con il chip Dell'iPhone O arrivi Con l'M1 Quando arriva L'M2 E C'è Tanta Da discutere Poi Invece Se vuoi Il Cellular Dai 64GB Devi aggiungere Attorni 869 Quindi E' come L'aver raggiunto I 256 Se vuoi 256GB Più Cellular A quel punto Vai a un prezzo Folle 1139 Che pro iPad Air Ragazzi Non Fatelo Assolutamente Per quanto Il pro Posso Niente Cos'è Di più Rinunciate Andateci 128 Perché 64GB Lo capisco Che uno Voglia Aumentare Quindi Prendete Il pro Però Secondo me Questo iPad Air Ha senso Nea Verso Ne base Come Io stesso Se lo Prenderò Non Penso Di prenderlo Ma Se lo Prenderò Magari Verso Fini Anno Anche Per la Scuola Io uso Il MacBook Per la Scuola Però Con la Tastiera O Magari Quella Volta Che ho Matematica Mi fa Comodo Usare L'Apple Pencil Per carità Magari Un iPad Di famiglia Di casa Su cui Guardiamo Netflix Io lo Uso Dal computer La mia Amma Netflix Lo guarda L'iPhone SE Da 4.7 Quindi Ha senso Anche Come un iPad Di casa Ti dura Tanto Sì Però A quel punto Vai sul Pro Da 11 Che ti dura Ancora Di più Secondo Me E C'ha Lo E Migliore Anche A livello Di batteria Ho Verificato Ed è Uguale Quindi È Tutta una Cosione Scelte Personali Su Cosa Si Preferisce Spero Di Trovarlo In un Altro Senso Con iPad O E 16 Perché Menti Sull'iPad Pro M1 Sì Mi Aveva Gasato Tanto Quando Uscito È Stato Il Io Voglio Dirvi Che A me Questo iPad Air Fa Impazzire Quindi Spero Che Lo Colli Bene Perché Sono Apple Serve Solo Per Far Soldi Purtroppo Oppure Sì Vabbè Raga Non ci conto Più Sto Facendo Anche Il Video Su iPad OS 16 Qui Me Lamento Cioè Arniva Arniva Lascia Like Grazie Sous Toc Toc